Allora, benvenuti a tutti e a tutte in questo nuovo video, sarà la continuazione del video precedente in cui ho parlato del funzionamento dei motori a combustione interna alternativi e in questo video andrò a analizzare le quattro fasi, quindi si parla di un motore a quattro tempi le quattro fasi che garantiscono il suo funzionamento ma come sempre prima di iniziare vi invito a mettere like, iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi approfondimenti e condividere il canale Dunque, in un motore a quattro tempi alternativo a combustione interna sono presenti appunto quattro fasi che si susseguono una con l'altra tramite le quali si riesce, il motore riesce a generare la lavoro e potenza alle ruote Dunque, le quattro fasi sono aspirazione, compressione, espansione e scarico Ovviamente stiamo trattando le fasi ideali, che è un ciclo di funzionamento ideale Allora, la prima fase è la fase di aspirazione Come vediamo dall'immagine, sono rappresentati due condotti di aspirazione in blu e di scarico in rosso Come vediamo quindi nella prima immagine, la valvola di aspirazione in questa fase è aperta Il pistone si trova inizialmente al punto morto superiore Avrà un movimento discendente, quindi si muoverà verso il basso, verso il punto morto inferiore Con questo movimento verso il basso si creerà all'interno del cilindro una depressione che favorirà l'ingresso dell'aria dal condotto di aspirazione Infatti la valvola è aperta, disegnata le frecce, indichano appunto l'ingresso dell'aria Aria o miscela di combustibile e aria, dipende dal tipo di motore Entrerà nel cilindro e si riempirà Una volta arrivato al punto morto inferiore, la valvola si chiude Due valvole, ogni aspirazione e scarico, sono entrambe chiuse E il pistone comincia la fase di compressione Compressione, infatti, essendo le valvole chiuse, il pistone si muove verso l'alto Come indicato dalla freccia verde E la tenderà quindi a comprimere l'aria o la miscela presente all'interno del cilindro Fino al punto morto superiore In quell'istante lì, sempre a valvole chiuse, avviene la combustione Cioè il volume rimasto a disposizione della miscela è proprio il volume della camera di combustione Dunque, avvenuta la combustione, questa tenderà a far scendere di nuovo il pistone verso il basso Quindi dal punto morto superiore al punto morto inferiore Come si vede dalla freccia, il pistone ha un movimento discendente E in questa fase viene generato il lavoro utile del pistone Quindi la potenza del motore viene generata solo in questa fase La fase di espansione, in cui i gas generano lavoro sul pistone In questa fase si è ancora a valvole chiuse Si avviene la fase di espansione, il motore e il pistone arriva al punto morto inferiore In quell'istante si apre la valvola di scarico Infatti, la figura che vedete, l'alvole di scarico è aperta e lascia defluire i gas di scarico I risultati della combustione verso l'esterno Quindi il sistema di scarico e poi verso l'esterno In questa fase il pistone ovviamente ha un movimento Risalita verso il punto morto superiore Così da espellere tutti i gas all'interno del cilindro A questo punto vorrei mostrarvi alcuni parametri geometrici e cinematici fondamentali Nella descrizione di un motore Ovviamente si parte dal sistema biella-manovella Ma questo lo vedremo più nel dettaglio in altri video Perché merita un approfondimento specifico Quindi partiamo dalle dimensioni fondamentali di corsa e alesaggio Come dà la figura La corsa è appunto la distanza spazzata dal pistone Tra il punto morto superiore e il punto morto inferiore Ancora non ho ben definito questi punti Che sono appunto i punti in cui la velocità del pistone si annulla In quanto proprio arrivato in quei punti inverte la sua direzione di funzionamento L'alesaggio invece rappresenta sempre mostrato in figura il diametro del cilindro Quindi il diametro all'interno del quale si muove il pistone Da questi due parametri dipende il valore fondamentale di cilindrata unitaria del motore Cilindrata unitaria è data appunto dal pi greco di 4 quarti moltiplicato per la corsa Questa cilindrata unitaria cioè relativa a un singolo cilindro Ovviamente il motore ne avrà più di uno Sarà frazionato La cilindrata totale sarà appunto la cilindrata unitaria moltiplicata per il numero di cilindri Cioè se avete una cilindrata unitaria di 400 cm3 E avete 4 cilindri avete un motore 1600 ad esempio Il secondo parametro importante è la velocità di rotazione dell'albero motore L'altro parametro fondamentale appunto è la velocità media del pistone Questo è un parametro importantissimo perché è uno dei più importanti limiti tecnici Di un motore a combustione interna Appunto la sua velocità non può mai essere al di sopra di 26-27 ms circa Nei motori da competizione più spinti E comunque è un parametro importantissimo per confrontare diverse tipologie di motori L'altro parametro è il rapporto corsa all'esaggio Questo definisce un po' la tipologia del motore Può essere minore di 1, uguale a 1, maggiore di 1 Nel primo caso sarà un motore corsa corta Un motore quadro nel caso sia uguale a 1 Un motore a corsa lunga L'altro parametro tecnico molto importante è il geometrico appunto Il rapporto volumetrico di compressione Definito come il volume massimo del cilindro Quando il pistone si trova al punto morto inferiore Quindi al limite minimo della sua corsa Fratto il volume minimo che è appunto il volume della camera di combustione Quando il pistone è al punto morto superiore Vorrei descrivervi ora alcune grandezze cinematiche dimensionalizzate su un grafico In modo da comprendere un po' meglio quello che avviene all'interno del cilindro e il movimento del pistone Partiamo dallo spostamento del pistone adimensionalizzato con la sua corsa Quindi si tratta dello spostamento del pistone diviso la corsa del pistone Questo valore partirà da 0 quando il pistone si trova ad esempio al punto morto inferiore Quindi in basso E tenderà a 1 quando il pistone avrà completato la sua corsa Ovvero dopo 180 gradi Quindi sarà un valore che piano piano tenderà a 1 Quindi una cosa del genere Arriverà a 1 A questo punto del secondo parametro voglio mostrarvi appunto la velocità del pistone istantanea Fratto la sua velocità media E questo valore partirà da 0 e finirà a 0 Infatti abbiamo detto punto morto inferiore e superiore La velocità del pistone è nulla Quindi si avrà un andamento del genere Quindi si avrà la massima velocità del pistone quando Sarà poco prima dei 90 gradi E poi può scendere di nuovo a 0 Quando avrà superato Ora ha raggiunto il punto morto superiore E quindi finita la sua corsa Quindi U pistone su U pistone meglio L'ultimo valore è quello di accelerazione L'antanile del pistone è diviso un'accelerazione di riferimento E questo valore partirà Avrà un massimo proprio in partenza dal punto morto inferiore Infatti in quel momento lì si avrà la massima accelerazione del pistone Arriverà a 0 Quindi partirà da un massimo Arriverà a 0 Per poi rallentare il pistone e la sua corsa E quindi arrivare a 180 gradi a un valore negativo E allora per questo video è tutto Diciamo con questo si conclude Queste due puntate sul funzionamento di base del motoro a combustione interna Nei prossimi video approfondirò alcuni dettagli Che magari già ho nominato Come sempre invito a iscrivervi Lasciate un like Mi raccomando è molto importante Se il video vi è piaciuto Commentate per qualunque dubbio o dettaglio magari non chiaro E vi saluto a tutti Ciao